Io credo che la ferita più grande che ha avuto Monfalcone in questi cinque anni sia una grossa divisione all'interno del tessuto sociale. Oggi noi abbiamo lavoro qui a Monfalcone, ma i redditi sono bassissimi e questo non ci può far svoltare. La Morsolin appartiene al passato. La Morsolin era assessore della giunta al TRAN quando è stata approvata la delibera che ha affossato le cause che andavano a dare un valore alla responsabilità per quanto riguarda le morti che anche oggi sono state ad un funerale di una persona che è morta di amianto. Con fronte a distanza tra la candidata a sindaco a Monfalcone Cristiana Morsolin e il sindaco Anna Maria Cisint, il primo cittadino della città dei cantieri ha risposto alla sfidante del centro-sinistra su alcuni punti che riguardano il futuro sviluppo di Monfalcone. Morsolin parla di una politica che deve essere progressista per cui la città deve affacciarsi al futuro puntando sulla tecnologia. Il sindaco Cisint però non si tira indietro risponde partendo dall'analisi di come sia oggi Monfalcone. I cittadini di Monfalcone invece non vogliono tornare indietro, oggi hanno una città pulita, hanno una città attrattiva che ha saputo guardare in cinque anni, ha saputo guardare avanti. Noi abbiamo costruito cinque scuole che loro ci avevano lasciato con bambini in lista di attesa, siamo riusciti a dare anche la percezione che Monfalcone è un'altra cosa. Oggi Monfalcone è nautica, oggi Monfalcone è portualità, è servizi, è litorale, è cultura. Infine a completare la risposta Cristiana Morsolini il ragionamento sul tema del lavoro. Il ragionamento sugli stipendi è molto semplice da fare. C'è un sistema italiano che ha delegato la grande industria a decidere giustamente quale sistema produttivo intraprendere. E in questo sistema produttivo, nell'idea dell'inversione di presenza, intendo dire che qui arrivano da ovunque per lavorare a costruire la nave, ecco in questa inversione è logico che hanno da rimetterci tutti, hanno da rimetterci ovviamente gli stipendi. Quindi su questo la polemica sta a zero.